La pietra d'Istria è una pietra d'Istria, la pietra d'Istria è una pietra d'Istria, perché è venuto come un ballast sui navi all'Adriatici. Il marbo rosso, lo chiamiamo di Verona, è anche una pietra, che viene dalla pietra d'Istria di Verona. E anche, vedete, posso trovare una pietra d'Istria. Oh, ecco qua, la Madonna della Misericordia. Esatto, con fratelli, con fratelli, con fratelli, con fratelli.